Tra gli elementi presi in considerazione dal Tribunale del Riesame di Firenze nel confermare gli arresti domiciliari per la donna accusata di violenza sessuale su un minore con cui aveva avuto una relazione clandestina, c'è la testimonianza di un'amica della trentenne di Prato che dall'inquirente è ritenuta di particolare importanza in quanto teoricamente una test non ostila l'indagata. Tutto sta nell'accertare l'età del ragazzo al momento dell'inizio del rapporto sessuale tra i due. Finora la procura contava su alcuni messaggi che si sono scambiati e sulla denuncia della madre del giovane. In questo caso però sono state raccolte le confidenze tra le due amiche che confermerebbero come la storia sia iniziata prima dei 14 anni tra la primavera e l'estate 2017. Cruciale l'appuntamento di lunedì quando al Tribunale di Prato si celebrerà l'incidente probatorio in forma protetta per il ragazzo. La sua versione potrebbe definitivamente aggravare oppure alleviare la posizione dell'indagata.